buon pomeriggio dallo stadio Mirko Fersini di Formello questa è Lazio Tavagnacco gara valida per la seconda giornata di ritorno del campionato femminile di serie B guarda il cronometro il direttore di gara si va inizia ora Lazio Tavagnacco parte forte indirizzata verso la porta al pallone spiove Ciazzi Nicolau di pochissimo non impatta per l'uno a zero litiga leggermente con un avversario a parte ora Albertini il suo tiro sopra la barriera pallone di poco alto ma l'ha toccata Emma Guidi l'ha toccata Emma Guidi e questa è una grande parata di Emma Guidi ancora su pallone probabilmente provare a un cross lo fa ora pallone sul secondo pallone Moraka stop dentro l'area salta direttamente avversario ancora Moraka prova il tiro pallone che calambola per Ciazzi Nicolau che cerca la conclusione degli Ata pallone che termina sopra la traversa Ciazzi Nicolau profondità per Ciazzi Nicolau la ciotterreta ancora Ciazzi Nicolau di fronte a Marchetti non sbaglia la Lazio ha in vantaggio Lazio deve assolutamente giocare con il cronometro ora pallone certo nell'aria Ciazzi Nicolau per Colombo 2 a 0 della Lazio al 46esimo Ciazzi Nicolau inversione assist e Colombo che non sbaglia fa 2 a 0 secondo gol stagionale per Soffia Colombo in questo caso per Davanti termina qui però il primo tempo all'intervallo tra Lazio e Tavagnacco risultato di 2 a 0 decidono i gol di Fullendorf e di Colombo Magni che poi recupera il pallone attraverso Moraka che gol di Giussi Moraka sono tre al secondo minuto del secondo tempo Giussi Moraka fa un gol incredibile sfrutta l'errore di Marchetti in uscita e in pallonetto la beffa insaccando il 3 a 0 Fullendorf Moraka di prima per Ciazzi Nicolau che cerca un colpo di tacco ancora buono il pallone Ciazzi Nicolau in aria prova a mettere dentro il pallone spizzato buono ancora per Moraka pallone fuori di un soffio che occasione per Giussi Moraka che apre benissimo a favore di Giuliano può entrare anche in aria prende la mira tiro cross Jansen colpisce il pallone e termina ora il match del Mirko la Lazio batte 3 a 0 il Tavagnacco con le reti di Fullendorf Colombo e Moraka il roma non piacerebbe il roma non piacerebbe Grazie.